buongiorno e benvenuti in questo nebbioso video oggi giornata di allenamento presviare i peccati del natale oggi è il 26 gennaio e vi porto a custozza un giro un po diverso da quello dell'altra volta con il conte anthony e faccio vedere qualche altro posto e sentiero adesso noi arriviamo alla cantina sociale dei vini con custozza alla mia destra c'è un bel percorso tra i vigneti dove si arriva una croce non so se riuscite a vedere con la telecamera invece noi proseguiamo alla cantina sociale a sinistra e andiamo verso il tamburino sardo che tra l'altro è un ottimo ristorante della zona imbocchiamo la via del tamburino sardo e proseguiamo per la sua proibitiva salita un breve tratto di una finta discesa non so se con questa graziosa nebbiolina si vede ma dobbiamo andare da sopra tra l'altro al di là di questa simpatica salita qua la cantina del tamburino sardo fa un vino di loro produzione che è una meraviglia quindi se venite qua a mangiare mi raccomando è d'obbligo portarsi a casa una bottiglia imbocchiamo subito il sentiero alla nostra sinistra e proseguiamo dritti per arrivare fino al monumento che c'è qua questo è il famoso monumento che vi paravo prima dedicato ai granatieri caduti in battaglia adesso noi proseguiamo di là benvenuti al ristorante il tamburino sardo noi andiamo chiaramente dove c'è quella macchina proviamo a evitarla evitando anche il fango sarebbe cosa gradita eh no il fango mi sa che ce lo cucchiamo tutto facciamo un giro tranquillo senza andare a imbrattarci fino nel coppino ah tra l'altro qua d'estate è molto bello venire perché il tramonto qua sulla mia destra è una cosa veramente meravigliosa qualcosa di incredibile altro fango noi giriamo di qua alla curva con la panchina potete prendere questo sentiero che vi porta sulla salita mortale di prima se no possiamo proseguire dritto come faremo noi per fare un'altra salita più brutta ancora proseguendo dritto abbiamo due scelte o a destra andiamo al centro la custodia o a sinistra e torniamo giù noi ovviamente torniamo giù ciao cagneto bello adesso iniziamo a rallentare perché se no ci schiantiamo contro l'albero svoltare a destra venerdì ho cambiato il cerchio posteriore della mia bici devo dire che mi dà parecchie soddisfazioni questo mavic questo lo sento molto più rigido e scorrevole anche se come peso siamo lì si mancano di 10-12 grammi rispetto all'altro mai visto un cerchio con raggi piatti volendo anche dove siamo venuti sempre dritto è un percorso per fare ciclismo e noi siamo arrivati in un punto dove dobbiamo bloccare la forca e l'ammo e andare su di là dove ci piace tanto faticare e vi faccio vedere qualcosa di carino che l'altra volta non avete visto qua siamo sempre a terrazza panoramica non ci fermeremo perché chiaramente con la nebbia non si vede una marza adesso ci troviamo davanti a un dilemma strada normale o scalini? direzione cimitero di custosa oggi la vedo brutta è piena di piedoni toccherà andare piano non sa che c'è una manifestazione, una camminata, una corsa leggiamo i cartelli va un po' più piccolo poteva scrivere maratona di custosa allora prendiamo questo sentiero ad agio perché comunque anche io non vi odio praticato da piedoni possiamo fare due cose allora uno dove c'è la panchina svolta alla sinistra percorso veloce 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 andiamo a destra noi andiamo a destra così faccio vedere dove si arriva perché in ogni caso tutti due arrivano sulla stessa strada buongiorno buongiorno il sacchetto con le coste lo danno anche a me che sono in bici che cattiveria stiamo litigando mamma mia che giornata vabbè effettivamente sono parcheggiati tutti sulla strada quindi è dietro di sosta non mi espongo anche perché io sono in bici non me ne frega un ma cosa fanno queste persone? a questo occorre che voglia vi trovo a corsa mettiamoci perché qua lo schiacciamento è imminente proseguiamo alla nostra destra e niente qua c'è troppa gente per fare il percorso al tunnel dell'amore possiamo prenderlo o qua dietro a sinistra o qua avanti a sinistra tanto tutte le strade portano al tunnel dell'amore a questo lato quasi quasi facciamo il sentiero della morte al contrario no vabbè non è il sentiero della morte il sentiero è solitamente una discesa si può fare anche in su però abbastanza tosta ho visto ragazzini una volta in una scuola di mountain bike che la facevano in su degli eroi fingevano come dei bastardi tra l'altro questa ruota nuova è silenziosissima non so se è un bene o un male perché almeno prima se facevo rumore mi sentivano arrivare e adesso di qua mtc godi cammino custozza chi è l'uamaro che fa quelle cose c'è un nuovo sentiero e noi proseguiamo la nostra attraversata qua in fondo questo sentiero c'è una fontanella in caso ne avviate bisogno vedete che non mi sento arrivare buongiorno qua alla nostra destra se proseguiamo sempre dritto abbiamo l'ossario qua c'è un ristorante casino di caccia si mangia benissimo super consigliato mentre noi ovviamente apriamo il sentiero qua a destra ecco qui si può vedere già il ristorante che è quello poi anche dal ristorante che va in giù c'è un sentiero che si congiunge su questo ecco la custozza è bello un bel posto molto turistico molto carino non ha discese lunghissime per mountain bike però comunque per mountain bike chi fa cross country o chi ha voglia di allenarsi è un posto ottimo a mezzogiorno devo essere da mia suocera e sono le 11 e mezza ciao mi fa il furbo quello lì davanti quella bici da corsa che pesa 3 kg con la schiuma antifolatura no sto strappo questa è la famosa cantina sociale di custozza e noi siamo arrivati da dove c'è quella macchina e dove è andato il nostro ciclista che ci frega e adesso torniamo indietro questo punto io devo svoltare a sinistra mentre sempre dritto si arriva a Villa Franca bene come vi è un piacere anche questo video gioccio interno iscrivetevi al canale se non siete iscritti lasciate un bel like che non vi costa nulla e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao